Vediamo un'efficienza qui dell'Ulzberica in Fiera Vicenza, penso non comune. Il messaggio che traspare da quello che vedete a mie spalle è se abbiamo dosi, se abbiamo vaccini, riusciamo a vaccinare migliaia di persone al giorno, quindi speriamo che l'Europa, speriamo che il commissario Arcuri ce li mandino oppure ci arrangeremo sul libero mercato. Su questa questione sembra che sia un stop and go continuo, lascia perplessi? Lascia sgomenti, anche perché vedo critiche gratuite e assolutamente assurde. Se sul mercato ci sono dosi, se sul mercato c'è la possibilità di accelerare la messa in sicurezza dei cittadini veneti, il Veneto si muoverà, proprio perché è quello che sentiamo anche delle persone che sono qui oggi, che non vedono l'ora di mettersi in sicurezza per guardare al futuro con un po' d'ottimismo. Quindi queste critiche, ripeto, da qualche personaggio lasciano il tempo che trovano. E ripeto, la Regione Veneto, se arrivano le autorizzazioni necessarie, come abbiamo già chiesto il 4 febbraio a Roma, noi partiamo per procurarci i vaccini prima possibile.